Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi oggi vi spiego come incrementare al meglio nel raccogliere le rune quindi ragazzi percorrete questo fiume dobbiamo entrare in questa caverna perché qui ci sarà un mercante quindi ci venderà delle nostre zampe si venderà delle zampe di gallina in salamoia dorata questo ce le venderà poi più avanti dobbiamo craftarle quindi poi ci serviranno gli ingredienti perché uno ci servono le zampe di gallina in salamoia dorata e poi ci servono lo scarapeo per fare di più un aumento delle rune quindi affrontate questo tizio qua che poi si arrenderà perché ha capito chi comanda quindi si arrenderà parlerà e parlerà e parlerà sempre poi chiederà di perdono e dimentica e poi diventerà un mercante e così facendo poi ci venderà tre zampe di gallina in salamoia dorata poi una volta fatto ripartite da quel punto di grazia dove avete toccato quel punto quando siete entrati nella caverna ritornate da lui questi non ti inseguono più parliamo con lui e cominciamo ad acquistare qualcosa acquista qui c'è la zamba di gallina in salamoia dorata quindi tre le compro tutte e tre poi c'è anche una chiave della spada di pietra quindi può anche servirmi quindi ragazzi ora che fare? dobbiamo craftare queste zampe di gallina in salamoia dorata quindi ci serviranno il frutto di ruova zamba di gallina a 4T e poi la lucciola d'oro per queste zampe di gallina ragazzi dovete ammazzare degli uccelli anche i pinguini si uccelli pinguini quello che volete poi qui c'è il frutto di ruova tanto se ne trovano a centinaia ma a migliaia in questa terra una volta fatto ragazzi sempre dietro al punto dove sta il primo passo dobbiamo andare a prendere le nostre zampe di gallina a 4 dita quindi qui sulla spiaggia se ne trovano veramente tantissime quindi come ho detto dietro al punto di grazia dove sta il primo passo buttatevi da qui non vi preoccupate non morirete eccoci qua ecco i pinguini ragazzi ammazzate più ne ammazzate più ne trovate zamba di gallina a 4 dita ma troverete di più anche piume quindi già questo l'ho perso ovviamente mi tocca ritrovarlo quindi che vi consiglio di fare percorrete tutta questa spiaggia ne troverete veramente tantissimi di pinguini da uccidere ma quello che ho capito si sembrano pinguini si sono pinguini questi una piuma una penna eccola qua zamba di gallina a 4 dita più ne ammazzate più poi ne troverete di queste zambe di gallina ed eccola qua una volta fatto ragazzi dobbiamo andare a trovare la lucciola d'oro quindi dove si trova questa lucciola d'oro adesso vi faccio vedere la mappa in questo punto dove sta questo piccolo laghetto dove stanno alcuni parassiti che si muovono eccoli qua questi tipi di parassiti sono facile da uccidere per me che sono a livello 270 quindi prendo queste lucciole dorale che stanno a terra nel laghetto eccola qua ma veramente tantissime poi se ne volete ancora di più andate a sponare in un punto di grazia vicino e ritornate qua tanto facilissimo poi faremo una piccola combo quindi zamba di gallino in salamoia dorata più lo scarabeo e ragazzi faremo veramente un sacco di rune io qua faccio più di 100.000 rune ogni 5-6 secondi usando la reliquia antica adesso vi faccio vedere l'inventario ecco adesso che le crafto le faccio tutte tre ne posso fare tre vabbè ne mastico una sola ecco che inizia l'incremento delle rune e adesso c'è anche lo scarabeo ragazzi ci ho fatto un tutorial su come trovare questo scarabeo quindi sempre nella playlist di Adderring oppure in alto a destra e adesso diamoci da fare più quasi 94-95.000 rune fatte subito subito ragazzi in meno di un minuto mi sono fatto 800.000 rune o erano 600.000 ed eccole qua quindi ragazzi che dirvi il trucchetto è questo zamba di gallina in salamoia dorata lo scarabeo door come ho detto ci ho fatto un tutorial lo troverete in alto a destra oppure nella playlist di tutti i tutorial che ho fatto di Adderring e ragazzi grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale attiva la campanellina lascia un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao